Salve a tutti cari colleghi, benvenuti a questo nuovo video dal titolo 6 cose che ti stanno rubando tempo Time management, time management, time management, gestione del tempo ragazzi in realtà questo video sarà incentrato non tanto sull'aspetto accademico della gestione del tempo perché il tempo non si può gestire ragazzi, voi dovete solo capire in qualche maniera come non potete modificarlo, è quello, voi dovete capire quali sono le azioni vincente che potete fare ma anche quelle non vincenti che non dovete fare, sarà il tema di oggi, ok? allora andiamo avanti, entriamo subito nel merito, ragazzi fate un bel like a questo video che così ve ne faccio anche di più, siete contenti, entriamo nel merito, iscrivetevi al canale ci sono un sacco di video veramente belli, cioè li ho guardati prima e ho detto cazzo questi sono veramente fichi, allora mi sono messo giù un po' di appunti che così lo facciamo durare il giusto eccetera, primo tema, mancata programmazione questo è un grande problema, molti agenti immobiliari arrivano al lavoro e dicono ok che cazzo faccio oggi? No, la pianificazione va fatta sempre il giorno prima ragazzi semplicemente perché tu devi arrivare al lavoro dove le uniche energie che devi cominciare a spendere sono quelle per fare quelle cose che hai già pianificato se no quando parti, tra un'ora, due ore, nel frattempo arriva il casino eccetera 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 un'altra cosa della mancata programmazione, ragazzi io ho dei sistemi che ho condiviso con i miei studenti nei percorsi avanzati eccetera, molto cartacei, ragazzi non credo molto cartacei, la carta, i migliori imprenditori che ho visto nel mio piccolo in città come New York, Dubai eccetera, cartacei, sempre ok? Nella mia programmazione c'è una caratteristica che almeno una volta alla settimana bisogna svuotare la testa, quello che ti blocca, che ti rende in ansia, che ti fa andare in affanno è che tu hai tante cose in testa, non le puoi tenere in testa, se le tieni in testa fai solo casino, le devi mettere giù, le devi scrivere, una volta alla settimana le scrivi tutte e queste cose te le pianifichi durante la settimana, mi rendo conto che sia più difficile da dire rispetto alla pratica, però bisogna che ti passi questo concetto eccetera eccetera eccetera, devi svuotare completamente la testa e non tenerti nulla, ok? Così non hai l'ansia di dire se mi dimentichi, no, le hai scritte, non le dimentichi, ok? Secondo tema, importantissimo, cos'è che ti sta rubando tempo? Le notifiche sul cellulare, le notifiche ti stanno uccidendo perché tutte le volte che ti arriva una notifica, quello che succede è che la tua attenzione va verso quella notifica e nel momento in cui ti deconcentri dalla cosa che stai facendo, nel momento in cui ci ritorni, serve del tempo per ritornare esattamente col focus giusto. Togliete le notifiche dal telefono ragazzi, l'unica notifica che io ho sul mio telefono, l'unica notifica che fa bip bip è se mi fottono la carta di credito, ok? Basta, se c'è un movimento bancario, stop, questa è l'unica notifica, tutto il resto ragazzi se uno ha bisogno, non ci credo, mi tengo Telegram, ok? Perché lo utilizzo a livello aziendale, so che se mi arriva una notifica lì è per qualcosa a livello aziendale, stop, tutto il resto ragazzi dovete togliere le notifiche, vi fottono la testa. Tante delle volte arrivava degli agenti in consulenza, vengono degli agenti in consulenza qui in ufficio, bip 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 bip, ma come cazzo si fa a lavorare? Ho detto, ma spegnilo porca puttana, come fai a lavorare così tutto il giorno? Terza cosa, che vi ruba tempo, telefonate in entrata. Allora, io non so se questo video lo stanno guardando, anzi sicuramente lo vedranno delle centinaia di agenti esperti, delle centinaia nuove. Il concetto è che tu devi mettere un filtro tra il tuo numero e te stesso, esistono una serie di possibilità infinite. La prima banalmente se hai un assistente di ufficio gli metti la deviazione a lei, magari ci sono degli altri servizi, magari metti una segreteria, però il tema è che le chiamate in entrata ti defocalizzano da quello che stai facendo e nove volte su dieci è una perdita di tempo che potresti gestire in un altro momento. Tutte le volte che ti interrompi ragazzi, cioè quando io parlavo di azioni vincenti, vi dico esattamente il tema dell'azione vincenti. 30 secondi, metti di orologio, anche se non ce l'ho, per una grande novità. Quello che posso condividere ovviamente su YouTube per motivi organizzativi è l'1% forse di tutto quello che c'è dietro al mio mondo e quello che insegno nella mia formazione. Ma una bella notizia. 2, 3, 4 ottobre Bologna. Ci sarà il vertice degli agenti immobiliari in Italia, il più grande evento in Italia. Mi avete chiesto a gran voce con dei messaggi, contatti eccetera, che volevate qualcosa in presenza, una cifra abbordabile e io vi ho ascoltato ragazzi. Parleremo di mindset vincente, di come acquisire 6, 7, 8, 10 incarichi al mese, come utilizzare l'open house per trasformarli in un asset per vendere e acquisire, come creare un team che ti permette di staccare il tuo tempo dai guadagni e soprattutto le nuove frontiere del marketing e del personal brand. Avremo degli ospiti davvero speciali? Questo evento era talmente importante per tanti agenti immobiliari che hanno proceduto immediatamente all'iscrizione. 2, 3, 4 ottobre sono aperte le iscrizioni, clicca qui sotto nel link e in descrizione per avere tutti i dettagli e per riservare il tuo posto. Ciao da Simone. L'azione vincente è una cosa che penso che devo fare, che comincio e finisco, ma se nel mezzo tra comincio a fare e finisco, ci sono notifiche, chiamate in entrata, le finisco sempre dopo. E se ci metto sempre di più significa che il numero di attività vincente che posso fare in un giorno è meno rispetto a invece pensarlo, cominciarlo e finirlo senza interruzione nel frattempo. Io lo so, diciamo, ma cazzo, Simone può essere... No. Allora, se io prendo un agente da 10 transazioni e un agente da 100, lavorano le stesse ore, ma quello da 100 ha questo sistema che vi sto facendo vedere. L'altro invece si fa prendere dagli eventi. Ok? Per cui, cercate di mettere un filtro, nessuno vi può raggiungere direttamente. Significa che è chiaro che le gestisce queste chiamate, ma ci sarà un qualcuno che ti manderà magari un messaggio a un tuo numero, a una tua mail personale che ricevi solo da quello che ti ha chiamato XYZ. Basta. Ok? Pur se cade il mondo, ti chiamano. Quarta cosa, che ruba tantissimo tempo, scrollare social. Io ragazzi, personalmente, qualche tempo fa ho fatto una prova, perché non te ne rende... Ho applicato, ho scaricato un'applicazione che verificava e mi sono reso conto, ragazzi, di quanto tempo passivo tu non te ne rende neanche conto, tu perdi, perdi a stare sui social. E' una quantità folle, ragazzi. Per cui, a un certo punto io ho preso questa decisione. La decisione è molto semplice. Allora, eliminare i social è una cagata. Mi spiego meglio. E' una cagata se fai quello che ti dico io. Chi seguono i social? Io seguo le seguenti persone. Ok? Chi mi può far guadagnare di più? Per cui io seguo chi mi fa guadagnare di più. C'è qualcuno che seguo, che è molto più bravo di me? Bene, lo voglio seguire. Ok? Mi interessa guardare che cosa sta facendo. Ok? Chi magari consigli di investimento? Io sono un investitore e di conseguenza se c'è qualcuno molto più bravo di me, che dà dei consigli o fa vedere che cosa sta facendo lui, io lo seguo. Ok? Io seguo alcuni miei clienti perché io voglio vedere, mi danno dei soldi, io voglio vedere come si muovono questi sul mercato. Cosa stanno facendo? Come si stanno muovendo sui social? Quarta cosa, io sui social promuovo la mia attività. Ok? Per cui io seguo chi mi può far guadagnare di più, gente più brava di me nel settore, seguo tutti quelli che sono bravi a investire, molti dei miei clienti, e così le tengo monitorate, soprattutto quelli avanzati, e io utilizzo i social per promuovere la mia azienda e il mio personal brand. Questo è l'unico modo, l'unico vero motivo per cui i social hanno senso. Ok? Oppure seguo qualcuno che magari vorrei portare nella mia azienda, come formatore, come collaboratore, come responsabile marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Questo è quello che io faccio sui social. Va bene? Per cui mancata programmazione è un problema, le notifiche vanno tolte, le telefonate di entrata vanno filtrate, e i social vanno utilizzati a nostro vantaggio. Siamo al punto 5, vediamo cosa possiamo fare. Ancora. Un grande problema, anche che ci fa perdere tempo, è non avere un archivio. No archivio. Per cui succede, abbiamo la denuncia dei redditi, dove cazzo vado a trovare, la ricevuta della farmacia, eccetera, vai a scartabellare in tutti i cosi. Oppure magari ho fatto quella prequalifica un mese fa, dove cavolo è? Oppure ho fatto quel pacchetto, mi ha richiamato il cliente, mi ha detto ci siamo, dove lo vado a recuperare? Per cui, non avere un archivio. Io vi consiglio, cartaceo, ok? Vi fa perdere un sacco di tempo. Per cui ho un archivio, cartaceo, dove metto dentro tutti i pacchetti. Metto dentro tutte le consulenze che ho fatto. Metto dentro tutte le prequalifiche che ho fatto. Metto dentro tutti i documenti che mi servono per il commercialista. Subito, non dopo. Una volta alla settimana mi svuoto il portafoglio delle cose, metto le ricevute, questa roba è qui. Un archivio dove metto tutti i contratti. Cioè, quando io devo andare a cercare una cosa, vado in uno di questi archivi e stranamente lo trovo subito, non ci metto dieci anni. Ok? Archiviare, archiviare, archimiamo. Poi, un'altra cosa che fa perdere un sacco di tempo, sono le riunioni. Io venivo da aziende in passato, ragazzi, dove c'erano delle riunioni che duravano quattro ore senza combinare un cazzo. Ok? Poi, quando ho aperto la scuola di formazione, e l'azienda di formazione, che lavoravamo, sono tutti sparsi in giro per il mondo, chi lavora con me, e cazzo, le riunioni dovevi far bene, molto bene, perché non ce li hai lì, poi c'è ovviamente dei professionisti che, insomma, devono viaggiare, anche io non è che posso dargli cinque ore, ok? Per cui le riunioni malfatte è un problema. Come non si fa, cos'è una riunione malfatta? Che tu arrivi alla riunione e non sai di che cazzo si parla, arriva alla riunione e ognuno non si presenta con i dati necessari, eccetera. Per cui serve un ordine del giorno, servono che ti presenti con i dati che servono su quei punti dell'ordine del giorno e serve che ci sia una minuta finale dove va a riassumere i cinque o sei punti che avete deciso nell'ordine del giorno. Questa è una riunione fatta bene, ok? Per cui, sei cose che ti stanno urmando tempo, queste le abbiamo già viste prima ragazzi, mancata programmazione, programma la sera prima, svuota la testa, cerca un sistema dove tieni aperti tutte le idee che hai, svuotando la testa ma non perdendole, togli le notifiche, filtra le chiamate in entrata, i social tu devi seguire chi ti fa guadagnare di più, chi ti dà consigli di investimento, quelli che sono i tuoi clienti e promuovi la tua attività. Punto cinque, mi raccomando, crea un archivio cartaccio, ti fa risparmiare veramente un sacco di tempo e mi raccomando le riunioni perché questa è una delle fonti veramente che ruba più tempo in assoluto nell'ambito lavorativo. Per cui, queste sono le sei cose che ti consiglio di sistemare e se la cosa ti è piaciuta fai like al canale, iscriviti al canale, fai quello che vuoi in descrizione se vuoi entrare in contatto, perché qui ragazzi stiamo parlando in maniera leggera, è chiaro che c'è tutta una programmazione di un certo tipo, se vuoi diventare forte in acquisizione, in open house, time management, investimenti, eccetera, sotto in descrizione è un link whatsapp, puoi chattare col mio collaboratore e magari ti fai una call senza impegno dove capisci le tue esigenze e se ti possiamo aiutare. Saluti da Simone Rossi, ci vediamo al prossimo video.